Non è nuovo ad esperienze di comando in Calabria, avendo guidato la compagnia carabinieri di Vibo e ha nel suo curriculum anche missioni all'estero, in Kosovo e in Iraq. E Giuseppe Mazzullo, siciliano, il nuovo comandante provinciale dei carabinieri di Catanzaro. L'ultimo suo incarico di comando è stato quello di capo della sala operativa dell'arma, poi ha frequentato il corso di alta formazione della scuola di perfezionamento delle forze di polizia. Assumo l'incarico di comandante provinciale di Catanzaro con un grande entusiasmo. Trovo una provincia che è splendida, è splendida soprattutto la gente che conosco avendo già prestato servizio in Calabria. Lo spirito è quello che anima ogni comandante dei carabinieri, cioè quello di stare da un lato vicino ai propri uomini, dall'altro di sentire le esigenze della comunità, di dare le risposte alle loro domande di sicurezza. Iniziando il suo lavoro al comando dei carabinieri della provincia di Catanzaro, il colonnello Mazzullo ha detto di voler proseguire lungo il solco tracciato dal suo predecessore, il colonnello Antonio Montanaro, nell'azione di contrasto alla criminalità e per assicurare sicurezza, legalità e serenità al territorio. Il bisogno di sicurezza arriva dalle grandi indagini fino alle piccole risposte ai cittadini. È un grande prestigio lavorare con la magistratura di Catanzaro e la Mezzia, con la quale non ho mai operato, però ho seguito come ogni cittadino i successi e le battaglie. Quindi mi aspetto di lavorare con grande sinergia, d'intesa con la magistratura e d'intesa con l'autorità provinciale di pubblica sicurezza. Sono sicuro che insieme continueremo sulle tracce dei miei processori questo percorso di piena legalità per dare la giusta speranza ai cittadini, per rispondere a quelle che sono il bisogno di serenità che la provincia merita.